La mia storia è la storia di tante persone che nell'arco della propria vita incontrano, inciampano in qualcosa di difficile che può essere una malattia, un incidente. Nel mio caso nel 2005 mentre facevo il camionista e svolgevo il mio lavoro in A4 all'altezza di Dalmine, un camion entrò in autostrada senza fari, senza frecce e io lo tamponai. In quell'incidente persi parzialmente l'uso delle gambe attraverso una lesione midollare e da lì la vita è cambiata, è dovuta essere ricalibrata anche con Claudia perché eravamo sposati da maggio e agosto abbiamo avuto l'incidente, quindi ho avuto l'incidente ed è cambiato un po' tutto il sistema della nostra quotidianità e ricalibrarla non è stato assolutamente facile. Mi sono detto molte volte guardando nello specchio sono stanco, però a fianco a me ho una persona magnifica che è Claudia e grazie al suo amore mi ha fatto capire che attraverso proprio questa unione e questo amore si può arrivare dappertutto e grazie a questo amore ci siamo legati in un modo ancora più forte, più importante perché ci siamo aggrappati a un ancora ancora più grande del nostro amore che è Dio, che è la fede, quindi attraverso la fede abbiamo deciso di non mollare più ma di andare avanti e di chiedere aiuto a questa grande ancora di salvezza che è la nostra fede. La cosa che mi ha fatto mettere in gioco è stato il fatto di dire ma adesso cosa devo fare dalla mia vita, cosa posso fare perché la fortuna che mi sono fatto male lavorando e quindi questa paraplegia incompleta mi porta comunque una rendita mensile da parte dell'Inail che è lente per infortuni sul lavoro e quindi grazie a questa rendita posso vivere dignitosamente però mi sono detto ma a 28 anni non posso fare l'invalido, il pensionato e allora mi sono detto devo rimettermi in gioco e da lì ho detto caspita ma ho una seconda opportunità, cioè posso decidere di ripartire da zero. Beh nella vita di tutte le persone non è facile riprendere la vita a metà vita e ripartire da zero e lì ho detto bene ripartiamo. Grazie all'Inail di Bergamo sono stato convocato, sono stato invitato a fare questo corso del progetto chiamato Scio Anch'io organizzato proprio dall'Inail di Bergamo e questo corso veniva fatto grazie anche alla collaborazione con gli istruttori nazionali di sci alpino e così mi sono avvicinato a questa disciplina dove Stefano Bellingheri, un amico e un istruttore nazionale mi fece provare proprio questo slittino, questo monosci e da lì poi è partita questa nuova avventura fantastica dove mi sono detto si può fare. La parte agonistica della mia vita non è stata proprio tantissima, è stata una parentesi aperta e chiusa rapidamente. Nel 2009 ho iniziato a allenarmi, ho fatto diverse gare CSI fino a che ho prodato i campionati italiani nel 2011 a Sestriere facendo il terzo posto nello slalom speciale, ma lo ribadisco come lo dico sempre ai miei atleti, ai miei amici e ai miei allievi che io non mi reputo un atleta forte, mi reputo uno sciatore di buon livello anzi di un buonissimo livello, però atleta tra i pali ho ancora da fare, posso farli ma non sono così forte come i tanti atleti che ci sono adesso qua in Italia. Ho dovuto prima cosa avvicinarmi a una repubblica straniera perché in Italia questa professione, questa figura non era ancora normata, riconosciuta a livello italiano e quindi sono andato a San Marino. Sciare, dico sempre ai miei allievi che la prima sensazione sicuramente è quella di instabilità, di poco equilibrio, anche di freddo perché serve la neve, però dopo la cosa bella che arriva è che ti senti libero. Quando incominci a volteggiare sulla neve, inizi a muoverti sulla neve, ti senti libero, ti senti ancora abile perché riscopri una libertà fantastica sulla neve, quindi ti senti veramente libero e questa è la sensazione più bella che c'è. Posso comprendere che le disabilità sono diverse e ogni disabile, anche i disabili che mi stanno ascoltando adesso, sicuramente dicono che fa presto, lui ha una lesione incompleta, piuttosto che muove una gamba, piuttosto che sente l'altra. Io penso che nella vita le cose succedono perché c'è un disegno, c'è un disegno divino dove noi siamo, diciamo, protagonisti. Dico ai ragazzi con disabilità, ai ragazzi che si trovano in difficoltà di non arrendersi, sicuramente il momento di sconforto c'è ed è legittimo che ci sia e dico anche di piangere, di sfogarsi, di aprire questa valvola di sfogo e urlare al mondo che esisti ancora perché questo è un diritto, il diritto di vivere e dobbiamo averlo tutti. Poi sicuramente non è facile ma è possibile e vi posso assicurare che quando riscopri una utilità sociale, un tuo disegno, un tuo posto all'interno ancora del mondo nonostante una disabilità, una difficoltà, una menomazione, un grosso handicap, scopri di essere ancora vivo e di essere ancora utile per te stesso, per le persone che ti amano intorno a te e anche per gli altri. Quindi non avere paura perché chi non fa sicuramente non sbaglia. Siamo, che siamo!